Il Vangelo di oggi ci invita ad esultare nello Spirito e noi siamo capaci di farlo o siamo aggrovigliati nei nostri pensieri e nelle cose da fare? Come possiamo esultare anche noi nello Spirito, anche nei momenti più complessi e difficili? Dobbiamo semplicemente amare, il resto lo farà Dio. Gesù è pieno di gioia perché il Padre ha rivelato il segreto della vita ai piccoli, ovvero agli umili di cuore, che sono capaci di vedere le opere di Dio nella e la loro vita quotidiana. Come si compiono queste opere? Con amore, per amore e nell'amore. Chi vuole capire Dio deve solo imparare ad amare. Se sapremo farci abbracciare da questa felicità, saremo anche noi tra i beati che vedono ciò che altri possono solo intuire. In chi o che cosa riponi e cerchi la tua felicità? In che modo esprimi il tuo amore per gli altri? Cosa dovresti cambiare nella tua vita per vivere con amore, per amore e nell'amore?